we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie can you hear the dream in the ocean? we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video mi sono xyuder l'avete già visto e oggi ragazzi primo video finalmente della season numero 9 ragazzi nuova stagione finalmente arrivata stagione numero 8 volata via come uno schiocco di dita stagione che ci promette tanta tanta novità per quello che riguarda l'ambientazione la modifica della mappa e il gameplay sia per quanto riguarda gli scontri ravvicinati con le armi sia per quanto riguarda tutto il condimento quindi nuovi veicoli molto probabilmente ne arrivo nuovi metodi di muoversi in giro per la mappa insomma ragazzi Epic Games continua a confermare che le idee per portare avanti questo capolavoro di Battle Royale non mancano assolutamente e nel video di oggi ragazzi voglio farvi vedere alcuni luoghi strani nella mappa forse non tutti hanno notato delle modifiche particolari ad alcuni edifici già presenti nelle scorse season ovviamente non sto parlando della nuova pinnacoli pendenti e del nuovo corso commercio ma ne vedremo delle belle voglio anche farvi vedere la nuova arma in arrivo non sto ovviamente parlando del fucile a pompa quello che ahimè ha sostituito il vecchio pompa del nonno che nostalgicamente parlando mi manca davvero tantissimo ma che devo dire è degnamente sostituito da questo nuovo fucilozzo super cattivo a pompa e poi ragazzi una bella manciata di leaks i migliori perché ne ho veramente carrelli pieni che cercherò di farvi vedere in tutto questo nuovo season 9 non si sa neanche che italiano è ma prima ragazzi voglio ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xioderone grazie per supportare il canale mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento sui miei video e sulle mie live ma prima eia la domandina raga vi devo fare la domandina quella easy sgrisi sgrisi e dai e dai è una domanda che avete già capito non posso che iniziare questa nuova season con questa domanda come ti sembra la nuova season oramai è già passato un giorno eh sono quasi 24 ore che stiamo giocando voi cosa ne dite? dai voglio sapere proprio a ruota libera ragazzi quello che vi viene in mente qua sotto nei commenti voglio davvero sapere quello che ne pensate proprio voi giocatori di Fortnite ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere il primo dei piccoli leaks modificati nella mappa barra nuovi luoghi come vedete ragazzi qua siamo nell'ex accampamento dei pirati vicino a lande letali non ci sono più ragazzi ovviamente gli accampamenti dei pirati essendo ovviamente finita la season numero 8 e il tema dei pirati ma come vedete sono stati modificati i canestri in modo da renderli più futuristici non c'è la rete ragazzi ma ci sono delle barre che fluttuano allegramente a mezz'aria ed è una piccola modifica che magari non tutti hanno notato modifica invece ben più grande per quello che riguarda la vecchia fattoria dietro al palmetto paradisiaco siamo proprio ragazzi dove prima c'era quel rudere abbandonato che adesso è stato trasformato nel mega villone di Berlusconi quindi non so se sia di Berlusconi è comunque un mega villone ragazzi da esplorare assolutamente una novità una particolarità molto interessante che vale la pena andare a controllare ed eccolo anche il nuovo quartiere molto particolare anche questo ragazzi si tratta di una piccola isoletta privata con tanto di yacht grande metà dell'isoletta privata molto bello devo dire che comunque ci sta l'idea è simpatico sicuramente non tantissime chest dentro questo quartiere noi l'abbiamo già visitato però vale la pena comunque dargli un'occhiata mi dispiace che se ne è già andato il quartiere con la piramide era davvero bellissimo ma anche questo merita comunque un po' della vostra attenzione e proseguo ragazzi rimostrandovi un'immagine interessantissima Flush Factory Outlet quindi si ritorna a parlare di Laboratorio della Latrina per chi se lo ricorda ovviamente nelle precedenti season era una location che adesso non c'è più perché è stata sostituita nella stagione numero 7 con il bioma del ghiaccio e si vede una parte ancora vicino ma non c'entra sono delle piccole fabbriche oramai coperte ma l'outlet di Laboratorio della Latrina era proprio la fabbrica di chest in poche parole nel nuovo mega mall ragazzi il nuovo corso commercio troviamo il negozio invece che va un pochettino a richiamare nostalgicamente questa bellissima location andiamo anche a vedere velocemente dei piccoli delle insegne molto curiose e divertenti di alcuni negozi presenti o ai nuovi pinnacoli pendenti o al nuovo corso commercio questo ragazzi è il negozio che vende il pesce con ovviamente il pesce secco che ti vende i bastoncini di pesce tanta roba abbiamo il just build devi solo costruire in poche parole vuol dire in italiano un altro negozio ma probabilmente uno dei più ignoranti è sicuramente il double plump che è un ristorante con chiari riferimenti al double pump presente fino alla season se non ricordo male 4 barra 5 di fortnite e chiudiamo in bellezza con un negozio dedicato completamente alla stica bananita e questa è l'insegna ovviamente va a riprendere la banana che tutti conosciamo della precedente season ma andando avanti ragazzi ecco qua i primi leaks abbiamo delle coperture per le skin e per i veicoli che arriveranno molto probabilmente in questi giorni nello shop quindi saranno acquistabili a prezzi che già conoscete bubble gum la prima molto carina ragazzi va a riprendere appunto il colore rosaceo dei chewing gum poi abbiamo la royal hair force un'altra skin che va un po' a richiamare la vecchia modalità di gioco aviazione reale che già ci ha regalato ben quattro coperture ma questa è molto molto bella Enigma una skin invece animata come notate in alto a sinistra nell'angolino c'è il simbolo dell'animazione probabilmente ci saranno degli effetti dentro quella trama che potete intravedere e per terminare niente perché non ce n'è neanche più un'altra ma voglio ragazzi rimanere nelle novità nelle robe inserite dentro i file di gioco e oltre a questo che sicuramente avete già avuto modo di vedere l'ombrello che vi viene dato alla prima vittoria reale della season eccolo qua ragazzi il nuovo fucile con mirino davvero molto molto interessante verrà implementato secondo me dopo la seconda settimana della nostra season numero 9 non sappiamo ancora i danni so solamente che è come rarità epica e leggendaria insomma potrebbe anche anche se non credo andare a sostituire il fucilozzo quello nuovo che si utilizza al posto dello scar in realtà io credo che sia un ottimo sostituto dell'acog che è ancora presente ma che diciamoci la verità in pochi utilizzano potrebbe essere davvero questo il suo successore andremo a saperne di più nei prossimi giorni e molto velocemente ragazzi qualche piccola novità backpack di una skin molto interessante ovvero sia la controparte femminile del rapace una nuova skin che arriverà nello shop ancora non si sa il nome seguita anche da questa specie di writer futuristico e andando avanti alcuni deltaplani e backpack questo è quello relativo alla skin che è venuta che è stata mostrata nel teaser numero 3 le ali invece di sentinella il pollo d'acciaio che ci hanno dato all'inizio del pass battaglia un backpack con una falce gigante dentro mantelli futuristici il mantello della banana che in realtà si sblocca con le sfide e tanti tanti altri backpack insieme alle skin che andremo questo è uno dei più interessanti indiscutibilmente che andremo a vedere man mano che i giorni passeranno in questa season numero 9 da ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo video le news non mancano e voi sarete sempre i primi a saperle mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle 13 ciao ciao ciao